dire il veritato che adesso non si merita niente, si troverà una soluzione e sei confetti adesso perché la prossima sezione di tavola è per tre mesi io sono professore, non aspettare tre mesi per vedere il video, io muro tutto no, no, non dire così, tu hai fatto tanti sacrifici, tu parli così adesso perché vuole che c'è la febbre lascia stare lasciamo la cosa, la pari sera e tutte le ragioni del mondo riposate poi allora se deve riposare andiamo ciao è questo il video è andato sempre più bene a te, benissimo vi diretti quel concetto di stasera non c'è lo scherzo tu, salita, la mia fidanzata deve accogliere il nonno del suo fidanzato e che fesso il fidanzato tiene due occhi neri come, come vi indiamo ovviamente questo è il video, scusate, ma sono due biglietti che non ci insieme a facciare ma certo stasera, no, non ci penso che sono sempre passi con le 8 così vi evito anche la venuta del nonno e domani a mezzanotte mi spedita così è un'unica giornata qua, mi tolgo questo fidanzamento di soli pari qua, Torello, pure corso sempre da presto è che non c'è poi una ragazza io vado un po' qui, però e quindi capire se è già fidanzata perché qua, ma qua le ragazze non c'è, scusate ma il periodo che mi eravamo portato non c'è nulla da dire se mi interessa nessuno fa qualcosa di dire c'è bisogno di essere innamorati per portarsi una ragazza al concetto ciao Bebby ciao Bebby stavo venendo a trovare Maria scusatemi, che concetto state parlando non quello di vasco di stasera perché io ho cercato i biglietti all'infinito ovviamente il vasco mi interessa per il periodo e stasera non ho niente da fare non si capisce bene se il notte è vivo mummificato sshh sshh non si capisce bene non si capisce bene